Bistecche per il popolo. Stati Uniti e Unione Europea hanno firmato un accordo storico che permetterà agli USA di esportare 35.000 tonnellate di carne verso il vecchio continente. Ad annunciarlo Donald Trump da Washington. I rapporti fra Bruxelles e gli Stati Uniti sono estremamente difficili per via della guerra dei Dazi, ma lo erano stati anche in passato per via del fatto che la carne proveniente dagli USA era trattata con ormoni vietati dalla legislazione europea. Nel 1989 Bruxelles aveva vietato l'importazione e Washington aveva trascinato l'Europa di fronte all'Organizzazione Mondiale per il Commercio con l'accusa che gli europei stessero infrangendo le regole internazionali. Ora le cose sono cambiate. Siamo soddisfatti, ha detto l'ambasciatore dell'Unione Europea negli Stati Uniti, perché non si tratta solo di denaro, ma anche di elevare gli standard ed avere finalmente una concorrenza più corretta. Dopo anni di scontri nelle aule dei tribunali, nel 2009 Washington e Bruxelles sono arrivate a un accordo che permetteva di vendere 45.000 tonnellate senza ormoni della crescita, agli USA e ad altri paesi sui mercati europei. Il nuovo accordo prevede però che 35.000 tonnellate potranno essere venduti in Europa esclusivamente da produttori statunitensi.